Partiamo puntuali come un treno lunedì 23 settembre alle 8 e mezzo, la trasmissione è 8 e mezzo ed è la trasmissione più seria della televisione italiana, argomenti seri discursi in modo più o meno serio, o sbaglio? Non sbaglio, sarà serissimo. Torna 8 e mezzo dal 23 settembre alle 20 e 30 sulla 7.